Non sono uno che si tira indietro, viola per sempre. Frank Ribery scaccia i cattivi pensieri rispondendo non solo sul campo, dopo la gran prestazione del Franky contro il Cagliari nell'ultimo turno, che purtroppo, o per fortuna, ha portato solo un punto alla Fiorentina, ma anche sulle piattaforme social. Infatti, dopo lo sfogo per il furto subito in casa, dettato probabilmente da quella sensazione non conosciuta da tutti di vedere e sentir violata la propria sfera privata, che aveva scatenato non poche polemiche tra i tifosi e in tutto l'ambiente politico-sportivo in generale, Frank stavolta è tornato sui propri passi con un chiaro messaggio «Lottiamo duro per i nostri obiettivi, partita dopo partita». Fondamentale l'intervento, come ambasciatore di pace dell'ex portierone Gigliato e grande amico del numero 7, Sebastian Frey, che con un post su Instagram dal proprio account ufficiale ha mandato e trasmesso soprattutto un messaggio che non ammette repliche «Mi dispiace per quello che è successo a un amico come Frank, purtroppo ci sono passato anch'io, capisco lo sfogo, dettato dalla rabbia del momento, ma sono certo che non ha mai pensato di lasciare Firenze o di prendersela con i fiorentini, anzi, giocherà per questa maglia con l'orgoglio e la grinta di sempre». Poi la risposta dello stesso Ribery, «Fratello, ho detto di sì a questo progetto, i veri tifosi, il club e la città contano su di me, il resto non ha importanza, insomma parole al miele che vogliono ribadire, l'incondizionata voglia di dare tutto e l'infinita passione per ciò che rappresenta il colore viola nella città di Firenze, non solo parole che sgonfiano un caso che certo sarebbe meglio non fosse mai esploso, ma si sa, le storie d'amore, anche quelle più brevi ma intense, senza qualche tempesta, non sarebbero tali». Grazie a tutti.